Allora ragazzi un video veloce, ho un po' di grafica per allestire la bici, è un po' abbondante allora abbiamo adesivo grande, mille passi, mille accendini, mille passi, così si capisce che possono andare a cercare un mille accendini e un mille passi poi l'accendino di facebook, mille accendini, l'accendino di youtube e mille accendini poi avrò anche, no questa è la bandiera ragazzi, questa è la bandiera di youtube le farò intorno a un palo e nel palo farò due buchi, uno qui e uno sopra e ci farò passare il cavo che alimenta la GoPro e quindi mi rimarranno regolabili sopra e sotto, veramente avrà un lavoretto facile facile, molto carino, molto efficiente poi qua abbiamo di nuovo adesivi mille accendini, youtube mille accendini, facebook e twitter, mille passi quindi tutta pronta per essere brandizzata, la bicicletta e tra un po' quando passerò ci sarà qualcuno che si annoterà il facebook di mille accendini e quindi aumenterò di fan su facebook grazie a tutti